Oggi con Italia Camp si è parlato di innovazione e si è parlato di innovazione qui all'aeroporto Leonardo Di Vinci di Fiumicino. Cosa lega queste due realtà? Due realtà diversissime ma nello stesso tempo unite da questo concetto. La sostenibilità e l'innovazione devono andare insieme ed è solo attraverso la messa al centro di ogni attività, dei bisogni umani che si può raggiungere il miglior risultato, anche economico. Quindi l'idea che ispira Italia Camp dare una migliore visione della vita e del lavoro ai giovani è anche la stessa visione con cui noi cerchiamo di curare la vita dei nostri passeggeri in un posto che non deve essere un non luogo ma deve essere un luogo piacevole prima di un viaggio o un luogo di arrivo.